Dopo la riapertura del tratto viario che da Piazza Sirena conduce a Viale Kennedy sul Lungomare, il Comune di Francavilla al Mare si prepara a riaprire anche Palazzo Sirena e il Pontile, oggetto di importanti lavori di rifacimento. Luisa Russo, Sindaca di Francavilla al Mare, ci sono novità importanti per la fruibilità di Palazzo Sirena? Sì, a breve riaprirà il pubblico perché adesso sono accessibili le vie di ingresso e le vie di fuga, quindi potremo usufruire dell'auditorio in Sirena e quindi tornare anche ad avere qualche spettacolo o incontro nel Palazzo Sirena. Da quando esattamente? Immagino fine mese di gennaio, primi di febbraio. E ci sono anche lavori che partiranno presso al Pontile? Sì, a breve partiranno anche lavori di ristrutturazione, di rigenerazione del Pontile, parlo della prossima settimana, stanno finendo di approvvigionare i materiali per cominciare i lavori del Pontile. Intanto da ieri è tornato accessibile al traffico il lungomare Kennedy da Piazza Sirena, dove vanno avanti i lavori. Da ieri abbiamo finalmente riaperto il tratto di strada di Piazza Sirena che conduce verso il lungomare Kennedy, quindi chi arriverà da sud potrà percorrere anche il lungomare Kennedy e questo è un modo per snellire fortemente il traffico sulla nazionale adriatica, traffico molto intenso a causa della chiusura della variante Anas. A fine mese riapriremo anche il tratto pedonale dall'altro lato della piazza, cioè di fronte a tennis bar, libreria Mondadori e pizzeria Trieste, che sarà a pedonale e sarà fruibile, quindi per il carnevale avremo a disposizione tutti questi spazi. Nel frattempo proseguono i lavori di pavimentazione della piazza di fronte al palazzo e proseguono i lavori di ristrutturazione del palazzo. Importante novità anche da lunedì per il trasporto pubblico? Da lunedì la linea tua numero 21 ricomincerà col suo percorso tradizionale sul lungomare, quindi non più sulla nazionale ma sul lungomare. Quando finiranno i lavori di piazza Sirena? Ipotizziamo di concludere i lavori del palazzo verso la fine di marzo e quindi a seguire la pavimentazione al ridosso del palazzo non può essere completata fin quando c'è il cantiere del palazzo Sirena. Un altro argomento importante per Francavilla al mare, sempre continuando a parlare di viabilità, è quello che riguarda la galleria San Silvestro sulla variante ANAS. Come ha detto, ha scritto più volte agli enti preposti, le hanno dato risposta sui tempi di una possibile riapertura? Non ci sono novità, ho scritto all'ANAS, ho scritto al Ministero delle Infrastrutture, ho scritto al Presidente della Regione Abruzzo, non ho avuto ancora alcuna risposta. All'ANAS ho scritto più volte e nessuna risposta è arrivata. La preoccupazione è che la chiusura si protragga ancora per mesi e che vada a ridosso dell'estate. A questo punto non resterà che organizzare una protesta con i cittadini se nessuna risposta arriverà. Grazie a tutti.